Ciaburumi e il partito dei sud sono sciabili, che chiamano queste lagune in mezzo al mare. Punta Nord, Punta Sud. Andiamo a fare la Punta Sud, che è comunque la parte più bella della punta dell'estate. Entreremo vicino al Riff e faremo un giro sul plateau, la posizione massima sul plateau è circa 30 metri. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.